Il museo diffuso della Resistenza in Sabina è un invito a mettersi in cammino sui sentieri calpestati dai partigiani durante quel difficile e drammatico periodo della nostra storia. Il percorso della lunghezza di circa 10 chilometri e ben segnalato dalle frecce direzionali rappresenta un'esperienza unica alla scoperta dello splendido scenario dei Monti Sabini da vivere lentamente, passo dopo passo, a piedi o in bici. Un piccolo viaggio della memoria. Tappa di questo cammino è l'Arcucciola, zona centrale del Monte Tancia, dove avvenne l'ultimo atto della lunga battaglia del 7 aprile 1944. La storia racconta che dopo un'intera giornata di lotta, ormai accerchiati, sette valorosi partigiani romani difesero la fuga dei compagni dall'assalto tedesco. rimasero così a presidiare l'Arcucciola fino al sopraggiungere del buio. Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti